La Banca del Cilento di Sassanevallo di Diano e della Lucania sostiene la formazione attraverso il fondo Studio Sì per l'istruzione nel mezzogiorno. Il gruppo bancario cooperativo Icrea, costituito da 136 banche di credito cooperativo, gestirà una quota di 46,5 milioni di euro delle risorse PON, Ricerca e Innovazione 2014-2020, destinate proprio al fondo Studio Sì. Si tratta dell'ultimo strumento promosso dal Ministero dell'Università con la Banca Europea per gli investimenti per promuovere la formazione specialistica universitaria. In particolare il fondo intende contribuire alla riduzione del gap esistente in Italia con il resto dell'Unione Europea rispetto al numero dei laureati nella fascia tra i 30 e i 34 anni, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e garanzie da veicolare soprattutto verso percorsi di istruzione nel mezzogiorno italiano. In particolare il fondo si rivolge a studenti o laureati residenti in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, che intendano frequentare programmi universitari, master e altri percorsi di istruzione in Italia o all'estero, e allo stesso tempo a studenti di tutte le altre regioni che intendano frequentare un'atenea o una scuola specialistica nel mezzogiorno. Informazioni e dettagli sono disponibili presso tutte le filiali della Banca del Cilento, di Sassane e Vallodidiano e della Lucania.